Direttamente dalla Cameretta Magica, oggi 7 di ottobre, benvenuti ad un nuovo video. In questo nuovo video faremo un video commemorativo. Allora, in questo video, proprio oggi, 7 di ottobre, sono passati 20 anni spaccati dalla morte di Pierangelo Bertoli. Pierangelo Bertoli è stato un cantautore italiano, uno dei più grandi cantautori italiani, ahimè purtroppo, troppo sottovalutati. E comunque Pierangelo Bertoli purtroppo, sin da piccolo, stava su una sedia a rotelle. Quindi magari, nonostante abbia avuto le sue avversità, l'ha saputo affrontare benissimo. Comunque Pierangelo Bertoli era nato di Sassuolo, un paese in provincia di Modena. Comunque, tra le sue canzoni più famose abbiamo Pescatore, cioè bellissima canzone, che con quella canzone duettò pure insieme a Fiorella Mannoia, che tra l'altro, in un video in live, ho visto che alla chitarra elettrica al basso c'era un giovane Luciano Ligabue. Poi Amuso Duro, bellissima canzone, eppure Soffia. Varsavia, cioè, bellissima, che parla della guerra, che secondo me Varsavia è più attuale ora che prima. Poi Caccia alla Volpe, c'è pure quella stupenda canzone. Spunta la Luna dal Monte, una delle più belle in assoluto, fatta insieme a Itazenda a Sanremo. Italia d'Oro, pure quella stupenda canzone, fatta a Sanremo un anno dopo Spunta la Luna dal Monte, che calcola che Spunta la Luna dal Monte è del 91, e Italia d'Oro è del 92. Poi Cent'anni di meno pure, c'è bellissima, 301 guerre fa, poi vediamo un po' che ha fatto le altre canzoni molto belle, i fiori che tu, certi momenti, gli oracoli, cioè canzoni veramente, veramente strabilianti, che comunque, in ogni caso, mille volte meglio Pierangelo Bertoli, che molti cantanti di mo', come Baby Gang, che Baby Gang istica all'odio, alla violenza, ad odiare pure le forze dell'ordine. Poi, Nico Pandetta, cioè, pure quello, va assolutamente tenuto a bada. Noiz Narcos pure, cioè, soprattutto Pandetta, sti tre come Baby Gang, Nico Pandetta e Noiz Narcos, cioè, sono assolutamente da evitare, mille volte meglio Pierangelo Bertoli, Zucchero, Ligabue, Grignani, Tiziano Ferro, eccetera, senza togliere niente a molti cantanti di ora, come Achille Lauro, Ultimo, Fulminacci, San Giovanni, i Pinguini Tattici Nucleari, i Maneskin e così via. Quella sì che è gente che merita, questa che ho nominato ora. Comunque, eppure che ne so, per quelli un po' più piccoli, dai 7 ai 12, mille volte meglio ascoltasse le canzoni di Pierangelo Bertoli in confronto alle canzoni dei Me Contro Te, perché quelle dei Me Contro Te non hanno veramente, veramente nessun significato, mentre quelle di Pierangelo Bertoli, cioè, sono canzoni veramente che ti toccano il cuore ed è giusto che uno, prima dei dieci anni, debba, debba assolutamente ascoltare della bella musica. Che dire, poi Pierangelo Bertoli comunque morì, è morto a Modena il 7 di ottobre di 20 anni fa, cioè del 2002, per un tumore ai polmoni che soffriva da tempo, che nonostante fosse uno che fumava tantissimo, aveva una voce veramente potente. Tra l'altro poi Pierangelo Bertoli fu pure omaggiato da tanti altri, come da Ligabue, dalla Mannoia e che altro c'è stata di... Ah, comunque il corpo è stato poi cremato e le ceneri poi sono state tumulate nel cimitero di Sassuolo, quindi se dovesse succedere che magari dovessi trovarmi da quelle parti a Sassuolo, magari un fiore glielo lascia e magari ci farà pure un video sopra, che dire. E niente, comunque prima di chiudere il video, c'è da dire che comunque alcuni album di Pierangelo Bertoli vanno assolutamente ristampati, perché comunque è un cantante che merita, e poi comunque ci ha lasciati veramente veramente troppo presto. Che altro c'è stata a dire? Ma la sua voce non morirà mai e poi mai, che dire. E niente, ci vediamo alla prossima, prima di chiudere il video, però voglio dirvi che questo è pur sempre un video commemorativo, e non tollero assolutamente commenti del genere di quando mi saluterai in un nuovo video o quando farei nuovi video, perché questi sono comunque video abbastanza delicati e seri. Che dire, niente, ci vediamo alla prossima.